Dottoressa Giunti, potete parlarci in generale degli obiettivi della ricerca e farci una prevedita di un'azione del lavoro che avete svolto? Sì, la ricerca, indagine conoscitiva, media, bambini e famiglie, che ci ha commissionato il Core come Emilia Romagna, è nata con il desiderio di conoscere maggiormente, approfondire la conoscenza dei bambini e delle famiglie rispetto alla televisione, ma in generale a Emilia, per i bambini della prima infanzia, quindi bambini dai 2, 3, 4, 5 e 6 anni. Quindi l'obiettivo è stato quello di conoscere gli immaginari, i punti di vista, i pensieri che i bambini hanno rispetto alla televisione, ai computer, ai telefonini, a tutte le tecnologie che oggi si utilizzano nel nostro mondo e in particolare per l'interesse del Core come anche interesse di chi si occupa di educazione, è capire attraverso il punto di vista dei bambini ciò che loro guardano in televisione, che cosa elaborano di ciò che guardano e questo discuterlo, confrontarlo e raccogliere il punto di vista dei genitori. Era inoltre importante fare questo attraverso un progetto di ricerca, un processo di ricerca che vedesse coinvolti come ricercatori le insegnanti, per chi tutti i giorni lavora con i bambini e raccoglie i loro pensieri, le loro elaborazioni, le loro domande, i loro dubbi attraverso i molteplici linguaggi che i bambini hanno, quindi certamente attraverso il linguaggio verbale, ma anche attraverso il linguaggio grafico, attraverso il gioco simbolico e attraverso le diverse modalità che i bambini hanno. È stato un percorso molto interessante che ha avuto vari livelli di metodologie e di indagine, quindi da osservazioni in contesto, partecipate, realizzate attraverso video che poi sono stati rivisti, riflettuti, analizzati dal gruppo di ricerca, conversazioni a piccolo o medio gruppo condotte dalle insegnanti e la realizzazione con i genitori di una rilevazione con questionario e anche la realizzazione di focus group. Quindi un materiale estremamente ricco che offre molteplici possibilità di riflessione e approfondimento sull'immaginario dei bambini e su come gli adulti possono essere solidali rispetto ai processi di apprendimento dei bambini che avvengono anche attraverso la fruizione di questi video.